Dai risultati preliminari appunto della campagna di misure radar che abbiamo fatto sul ghiacciaio in febbraio abbiamo rilevato spessori del ghiaccio pari a in un transetto di 26,7 metri, quindi quasi 30 metri di spessore di ghiaccio. Ma non è molto perché con la tendenza attuale, la perdita di spessore annua che rileviamo, insomma in qualche decina d'anni il ghiacciaio potrebbe anche sparire.